Professore, sconfiggere la morte, questo è l'obiettivo della morte per tumore al seno. Possiamo commentare come sta andando adesso? Molto bene, il sistema sanitario regionale Umbro ha una mortalità 50 superiore alla media nazionale, quindi siamo pienamente soddisfatti. Troviamo alcune criticità che dobbiamo correggere. La prima criticità è che sembra che in Umbria ci sia un'incidenza aumentata, aumentata sensibilmente rispetto alle altre regioni italiane, quindi bisognerà interrogarsi su questo e forse con quello che è proprio la nostra carta vincente della Lega Tumori, che è la prevenzione, proveremo a incidere sugli stili di vita, sani stili di vita, su quello che è la natalità nella nostra regione. Il problema importante è l'obesità e alcune terapie ormonali che possono contribuire a tenere il numero di nuovi casi più alto. Però resta per tutti gli operatori Umbri, per tutte le breast unit Umbro e per tutto il sistema sanitario regionale Umbro un dato sulla mortalità a 5 anni che è molto positivo rispetto alle altre regioni italiane. Professore, come diceva il professor Veronesi, che bisogna che una donna partorisca e allatti per far sì che il suo seno sia bene. Sì, questo è stato sempre uno dei cardini della prevenzione. La mammella è un organo estetico e poi ha una funzione che è quella dell'allattamento. Il professore ripeteva sempre che se l'organo non funzionava poteva ammalarsi più facilmente. Quindi, certo, sono problemi sociali per le nuove famiglie, la casa, il lavoro, molti problemi sul sociale che hanno ristretto la possibilità di gravidanza. Ecco, l'obiettivo che l'associazione si prefigge è qui a quando compirà 100 anni. Dunque qual è? Allora, nel 2022 la Lega compie 100 anni di attività e parte del finanziamento che ci è stato dato importante negli ultimi tre anni era proprio nel varcare una linea di ricerca che era quella della biopsia liquida sull'eterogeneità del tumore che dovrebbe portarci per quella data, il sogno è mortalità zero e sarà molto difficile, però di ridurre in buona parte quella percentuale che oggi abbiamo. Biopsia liquida fu un argomento che trattammo. Come sta andando, professore? Molto bene, abbiamo dimostrato su oltre 100 campioni l'eterogeneità del tumore, cioè la differenza tra il tumore nel sito primario e il tumore nelle cellule nel sangue o nelle metastasi. Questo è ricerca, però questo ci consentirà probabilmente di inquadrare in maniera più personalizzata le terapie alle pazienti che ne avranno bisogno. Grazie. Grazie.